Oggi vediamo come sbobinare o tagliare l'avvolgimento di un pick up interrotto. Qui abbiamo un precision anni 67-68, purtroppo è stato rovinato nelle spire qua dentro, è recuperabile, quindi va tagliato, van tagliate tutte le spire, tolte e poi riavvolto. Con un cutter inizio a tagliare. Avvolgimento. Poi verrà rifatto rigorosamente con lo stesso materiale, con lo stesso filo di rame. Grazie. Ci siamo. Ci sono tanti. Ci sono. ecco qua il pick up a questo punto è libero, completamente vuoto qui adesso lo isoleremo con della vernice poi lasciamo asciugare e lo ribobbiniamo e poi gli creiamo il suo compagno di polarità opposta puliremo anche i contatti per far passare il capellale e verrà ripristinato il funzionamento filologicamente grazie 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 grazie